Fatto. La norma vale esclusivamente per gli italiani alla guida di mezzi con targa tricolore o stranieri che risiedono nel nostro paese anche se hanno un mezzo con targa straniera. Il funzionamento dei dispositivi è semplice. Attraverso dei sensori di pressione riescono a rilevare se il seggiolino è occupato oppure no. In commercio si possono trovare diverse tipologie. Al momento si vende soprattutto questo qui della chicco che viene agganciato alle cinghiette del bambino, agli spallacci e poi il tappetino. Noi vendiamo molto bene questo qui dell'inglesina, l'allipad. Sono questi due. L'allipad o il tappetino viene messo nella seduta del seggiolino e quando il bambino viene seduto sopra automaticamente si collega al bluetooth del cellulare. Questo invece deve essere agganciato di volta in volta. Quindi vi ha inserito negli spallacci come dicevo prima. Eccolo qua così. E la mamma o il papà di volta in volta devono chiuderlo così, attivarlo. Quando poi fanno scendere il bimbo devono disattivarlo in questa maniera. Gli dispositivi riescono in qualche modo a soddisfare la richiesta dell'utenza attualmente? Sì, anche se molti li vedono un po' come una cosa troppo macchinosa, un po' difficile da utilizzare. Attualmente è possibile richiedere un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato entrando nella piattaforma bonusseggiolino.it e inserendo le credenziali SPID, sistema pubblico ed identità digitale. Il rimborso vale anche per i dispositivi acquistati in precedenza, previa compilazione dell'apposito modulo e allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale. Con l'entrata in vigore della nuova normativa inizieranno anche le sanzioni per chi non è ancora munito di un sistema antiabbandono, previste dagli 83 ai 333 euro con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in due anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Lei l'ha acquistato signora? Sì, sì. Lei la mamma? Sì, sì. Ce l'ha già. E ogni tanto mi arriva un messaggio, quando lei magari scende un attimo, un messaggio a me, il nome del seggiolino, Tipi Giovanni. Giovanni. E poi vi ti dà la mappa di dove si trova il bimbo, cioè la macchina. Quindi questi dispositivi sono efficaci per questo tipo logico? Nel momento, adesso, diciamo, fortunatamente non è mai successo che è stato abbandonato, però arrivano questi messaggi con la mappa dove si trova il bambino e già è molto importante. Assolutamente sì, perché comunque ci sono tante persone consapevoli, però purtroppo ci sono ancora troppe persone ignoranti e quindi è assolutamente necessario un intervento del genere per proteggere i cuccioli. Questa è una cosa ottima, sono pienamente d'accordo. Provederà? Come no, c'è un nipotino di tre anni, pienamente sono proprio contenta di questa cosa. Dimenticare un figlio all'interno dell'abitacolo, della vettura, può avere anche dei risvolti giudiziari. Il guidatore può essere punito con la reclusione dei sei mesi a cinque anni. Se poi il piccolo subisce lesioni fisiche, la pena sale da un minimo di uno a sei anni. Mentre se muore, causa di ipertermia, cioè l'aumento della temperatura in pochi minuti causata dai finestrini chiusi, la pena del conducente può variare da tre a un massimo di otto anni.